Questa settimana qua è stata abbastanza provante per il sottoscritto. È un periodo in generale molto stressante per me, anche se con le live, come sapete, cerco di separare le due cose, i due mondi. Mi metto in live, mi sciallo e non penso al resto, però poi quando spegni la live devi tornare al lavoro sulle altre cose. Il progetto di carte che sto realizzando con Panini mi sta apparecchio mettendo alla prova, sia fisicamente che artisticamente. È un progetto però incredibile, Monsters in confronto è una giacchettata, come diciamo a Livorno, è una robetta, è tutto incredibile, però è molto molto difficile. E poi ovviamente c'è stato il trasferimento, c'è stato il trasloco, pacchi e pacchi di roba, poi ovviamente casa nuova non è pronta, quindi io fino a settembre, agosto settembre, sarò con le salvetti. Quindi io sono una casa di transizione, non mia, che forse voglio comprare, forse no, ora capisco, perché è la casa, come sapete, della mia infanzia. Però anche lì c'è stato un problema, perché il proprietario ha scoperto, come ho già raccontato, il giorno prima dell'atto, però del compromesso tra proprietario e compratore, ovvero il sottoscritto, che la moglie gli aveva lasciato un'ipoteca su una casa che sta cercando adesso di spegnere, con gli avvocati e tutto, si chiama, non mi ricordo come si chiama l'ipoteca, ma praticamente quando marito e moglie si separano, la moglie, anche se non è intestataria della casa, può lasciare una bella ipoteca nel dubbio, nel dubbio. Magari il marito non può pagare gli alimenti, magari, oh, che è successo? Magari succede qualcosa, insomma. E quindi l'ha scoperta il giorno prima dell'atto, un'ipoteca buttata lì negli anni 2000, quindi figuratemi un po'. Questo è quanto. Io quindi, mi è stato mandato a monte la vendita, però il proprietario gentilmente mi ha lasciato la casa, che tanto è vuota, è disabitata, lui abita dall'altra parte, fino a settembre, perché me l'aveva promessa. Molto corretto, molto giusto, topperia. Vediamo, beh, vediamo. Ipoteca, non si chiama ipoteca per forza, topo ciccio, anche se in realtà il nome ci starebbe anche bene. Comunque Dario l'ipoteca non la scrive mai il proprietario del bene, quindi è normalissimo. Ma non me ne frega un cazzo a me di questa roba, Alessandro, non è che mi interessi molto di questa cosa qua. Allora si spiega perché Mario, doccia, vabbè, questo mastro lo possiamo anche mannare, questo commentino qua. Quindi niente casa nuova per ora, non hai capito un cazzo? Nonostante te l'abbia appena spiegato, è incredibile, è assurda a volte la mente umana, che trucchi può utilizzare, no? Per cercare, ho detto che a settembre sarà pronta casa nuova, nel mente essere una casa di transizione che comunque volevo comprare, è un'altra casa questa che volevo comprare perché è la casa della mia infanzia. Ciao ragazzi, grazie di tutto, grazie, grazie di tutto, ciao, ciao bello, ciao, ciao, ciao. Era la casa che mi ha ospitato dalla mia nascita fino al 1995 e la volevo ricomprare perché comunque ho bei ricordi di quella casa. Oggi ho un ricordo brutto di quella casa, perché periodo stressante, pacchi, mi hanno aiutato Bertocchi e passaporto a portare tutti i pacchi, problemi, cazzi e mazzi, non avete... ah, questa cosa la devo raccontare, non l'ho mai raccontata, è giusto raccontarla. Noi siamo in un condominio meraviglioso, dove c'è un simpatico, un simpatico amministratore di condominio, che il giorno in cui io e Maser abbiamo vargato la soglia di questo condominio, ci ha mandato una simpatica lettera dicendo i vostri condizionatori sgocciolano, come diceva il GOAT, fateli subito riparare, se no avvocatino. Oh, perfetto, allora abbiamo chiamato il costruttore, la giustata, eccetera, eccetera. Qualche tempo fa, proprio al ridosso dell'ultima maratona, il Maser nota un simpatico problema nelle pareti di cartongesso del nostro studio, ovvero delle gore d'acqua, delle pozze d'acqua, qua, nel cartongesso, nelle due mura, avrei nei due muri che circondano il vano autoclave del nostro condominio. Che bello, proprio trasudavano acqua. Perfetto. Sono andato a controllare, l'autoclave aveva un pertugio che secerneva liquame, che si era simpaticamente infiltrato tra muro, lana di roccia, che c'è perché tutto è sionizzato, è cartongesso e aveva iniziato a mangiare il muro. Dopperia. Mando una mail all'amministratore, due mail all'amministratore, tre mail all'amministratore, chiamo l'amministratore, però solamente quelle due ore, durante due giornate in una settimana di lavoro, cioè lui probabilmente risponde al telefono quattro ore in totale a settimana, va bene, al che io, un po' innervosito, lo ammetto, prendo la macchina del Maser, perché non avevo la macchina qui con me, prendo la macchina del Maser, dove vai? Non ti preoccupare, Maser non mi fa nemmeno una domanda, prendo le chiavi della sua macchina e la sua macchina è scappo e lui si rimette a giocare a TFT. Vado all'ufficio dell'amministratore di condominio, apro la porta, con dolcezza c'erano due segretari amorevoli, ho detto, amiche mie, c'è l'amministratore di condominio? No, è fuori. Immaginavo, ci mancherebbe altro. Può per favore l'amministratore di condominio venire con un perito a calcolare il danno, perché se no domani gli faccio bucare dentro Giuseppe Croari con una mazza frusta? Il giorno dopo avevo i periti nel mio studio. La legge italiana, meravigliosa, ti corre in soccorso in men che non si dica. Fanno il calcolo del danno, passano due mesi prima che ci dicano... Che succede? Eccolo qua. Ciao. Passano due o tre mesi prima che ci comunichino l'entità del danno, io lo passo al costruttore e il costruttore ancora con calma, ovviamente deve venire ad aggiustare i buchi del muro. Tutto questo cinque mesi per aggiustare due buchi nel muro, fare due pezzi di cartongesso. Topperia, topperia, topperia. Che cosa stavo dicendo? Non me lo so, me lo so scordato. Vabbè, comunque non importa. Fatto sta. Non mi ricordo perché ho aperto questa parentesi. Fatto sta. che vado nel nuovo condominio. È il condominio di quando ero piccolo. Ci sono praticamente tutti gli stessi condomini. Ma come sei cresciuto? Mamma mia, come sei grande. Ma che pene, gigantesco, eccetera. arrivo nel mio appartamento, non l'hanno detta, questa ultima frase, arrivo nel mio appartamento, portiamo tutto, ieri, portiamo tutto, ovviamente anche la gatta, eccetera. Non hanno detto, questa è la mia piccola aggiunta. Rivedo i vecchi volti, che mi fa anche piacere rivedere, ci mancherebbe altro. Ero piccolino, loro non sanno assolutamente cosa faccio, per fortuna di Dio. Il vecchio amministratore di condominio, quello di Ponte d'Era, mi ha mandato anche un simpatico messaggio, perché i cani della raccolta differenziata hanno preso l'indifferenziato, l'organico, hanno tirato su i sacchetti, si è distrutto il sacchetto con la lettiera della gatta. Il giorno in cui io avevo venduto casa, che avevo consegnato la mattina, le chiavi al nuovo proprietario. Con chi se la sarà presa? Ovviamente l'amministratore di condominio di Ponte d'Era. Ovviamente col sottoscritto, che con una dolcezza, con un sorriso sulle labbra, mi dice, di chi è questo sacchetto? È mio. Vieni a pulire. Ma non sono più il proprietario io. Non sono io più il proprietario. Comunque non ti preoccupare, ora prendo la macchina e vengo lì a pulire, va bene? Non c'è alcun problema. Hanno fatto la cazzata loro, però non te la prendere con me, come se t'avessi spezzato la spazzatura apposta io per farti un torto. Però vengo, ok? Allora chi dovrebbe pulire? Io? No, vabbè, infatti vengo io. Vengo io. Ok? Nessun problema. No, no, io vado per correttezza, non voglio. Io sono sempre per la pace, ragazzi. Sempre zen. Sempre zen. Non c'è problema. Non c'è problema. Veramente. Hanno fatto una cagata quelli della raccolta, ho detto, Agnese, guarda, mangiamo un po' prima, scusa, mangiamo un po' dopo, arrivo, vado a Ponte Della, con le servette di Ponte Della sono venti minuti, eh, però prendo, vado, non c'è problema, vado a pulire. E poi, nel nervoso più totale, arriva che cazzaro sei, è tutto vero. È tutto vero. Tutto verissimo. Se vuoi ti faccio leggere i messaggi, ma non posso perché mi denunciano. Arriva un messaggio da uno che stava nel mio stesso condominio e mi scrive Tranquillo, Dario. Pulisco io. Io, quando ho letto questo messaggio mi stavano venendo mi stavano venendo le lacrime agli occhi. Perché dopo una settimana di questo tipo, avere un tizio che ti va a pulire la lettiera del gatto dopo che quelli della raccolta differenziata hanno tirato così i sacchetti distruggendo tutto, gli ho detto, non ti preoccupare, vengo, sto arrivando io, sto arrivando, non toccare niente, non faccio novi, non toccare niente. E lui, non ti preoccupare, ma ci mancherebbe emoji con l'occhiolino. Io gli ho mandato un audio, non vi posso far sentire l'audio perché c'è il nome nel mezzo, gli ho detto, mi pare la frase questa, te sei un tesoro prezioso da preservare, non ti conosco perché non ti ho mai visto nel condominio, ma non cambiare mai. Questa è stata la frase che gli ho detto. lui mi ha messo un emoji con le risate e basta. E poi sono andato lì, vabbè, tutto a posto, il proprietario nuovo è anche simpatico, alla mia età, ci sta alla grande, vabbè. In tutto questo, comunque, dicevo, torno, torno, sì, torno nella mia vecchia casa di bambino, porto tutto, porto lo stretto necessario, la decoriamo un po', anche se è tutto vuoto, chiaramente non ci farò grandi cose, anche se ha potenziato che diventa un grande appartamento, se poi comprerò davvero con la casa, voglio donare l'ascensore, perché c'è una vecchietta accanto a me, una vecchietta, una signora che ho conosciuto e ho visto crescere, invecchiare nel tempo, lei mi ha visto crescere, voglio donare l'ascensore perché è in cima al palazzo esattamente come me, ci sono tre rampe, no, sei rampe di scale, quindi vorrei trovare il modo di mettere un bel ascensore nel, la voglio donare al condominio, sono tante vecchiette in questo, voglio provare a fare questa cosa, se poi la comprerò, non lo so, non so se la compro, mi informo e voglio installare un ascensore enorme, perché proprio ho fatto tenerezza, vabbè vediamo, comunque entro, la mini ovviamente spaventata, è molto fifona, costi manutenzione poi, eh ma non sono molti in realtà, ce l'avevo io l'ascensore nel vecchio palazzo, non sono poi moltissimi, comunque, questi cazzi poi li pago io, o se me la colla la mia, questi cazzi, comunque, e mini si acquatta, inizia a nascondersi dappertutto, abbiamo il camino, nel nuovo appartamento, bellino, bellino da moricolo, è veramente una chicca, come cosa, e mini inizia a nascondersi, in ogni pertugio, dobbiamo sempre metterci 5 minuti per trovarla, e bla bla bla, sono 6 ai 12k, l'ascensore mediamente, che sarà mai, lo doniamo, comunque, cammino a legna, comunque oggi, primo giorno di, prima dormita, a casa mia, casa di transizione, mi sveglio, la mattina, sono andato a fare l'analisi del sangue, mi sto facendo un check up completo, in questo periodo, sto facendo un check up, l'analisi del sangue, ecografia all'addome, esami delle urine, farò anche un encefalogramma, vi faccio proprio un check up, completo, oggi ho fatto la, l'esami del sangue, ho paurissima, ma va bene, sapete, ho paura degli aghi, come non so cosa, e poi tentavo di fare il sostenuto, ma no, infili pure, signore, mamma mia, quante pere di roina, lei non lo sa, no, vabbè, comunque, a parte che, non avevo veramente paura, e comunque, mi alzo la mattina, torno, e poi faccio una passeggiata, per Colle Salvetti, con Agnese, andiamo, andiamo, dal fruttivendolo, andiamo dal panettiere, a prendere la schiacciata, la mangiamo sulla panchina al sole, da vera vita paesana, topperia missile, quello che ho sempre fatto per 30 anni, eravamo molto felici, la gente per Colle Salvetti, mi vedeva come un fantasma, passeggiava, Dario, non so, sinceramente, perché di queste reazioni, perché, comunque, non è che manchi da tantissimi anni, però, non so perché poi vi vedono come un fantasma, tra l'altro so, che molte persone bubolano sul mio lavoro, quello lì, campa sulle spalle dei bambini, ma sì, può essere anche vero, ma comunque, non è che glielo metto in culo, eh, amica, sono, comunque, insomma, è semplicemente un, no, cioè, faccio, vi faccio l'intertenitore su internet, eh, ma, ma come osa fare battute per campare, insomma, comunque, insomma, va bene così, no, no, ma era un pezzetto mio laterale, va bene, torno a casa, ragazzi, è tutto vero, torno a casa, e la mini non si trova, la cerchiamo dappertutto come al solito, ma stavolta si trova un po' meno delle altre volte, avevamo chiuso la porta dell'anticamera, quindi c'erano due stanze disponibili, la cucina e il salotto, non si trova da nessuna parte, tra l'altro, in tutta questa roba qua, è arrivato il fattorini, perché dobbiamo sentirci per una piccola cosa che dobbiamo fare a settembre, a Colle, ma una picco, una piccolezza, tenetevi pronti, date una, ma una piccolina cosa, una fiera che prenderà tutto il paese, sale cinema, fumettisti, aperitivi, culturali, eccetera, ma una cosa, ma un'area che proprio prendiamo stavolta il paese, la distruggiamo così, scherzo, però è proprio tutto il paese verrà preso in esilio, in esilio verrà preso proprio come Roccaforte per fare delle cose culturali, vabbè, se ci si riesce, non è detto, ci proviamo, viene, per fare orari, eccetera, e viene in una situazione veramente drammatica, perché ogni esempio inizia ad andare nel panico, io cerco in ogni antro, cerco anche nel camino, cerco nel vano camino dove c'è, sotto dove c'è la legna, cerco, sdradico i divani, guardo dappertutto, la mini non si trovava a nessuna parte, guardo in cima, si era saltata in qualche maniera, niente, ragazzi, ero veramente distrutto, distrutto, perché per me quel gatto è come un figlio, e io non trovavo mio figlio praticamente, ero devastato, mia figlia, ero devastato, devastato, io e Agnese eravamo devastati, il fattorini cringiato perché si trovava in una situazione di assoluta disperazione, e mi pa che prende sempre queste situazioni alla stessa maniera, cioè proprio ha un'affettività totale, ma tanto gatti vengono fuori, ma che va, perché ma se non sei, ma ci saranno ascolto, ma, ma è gatti, ma verrà giù, ma se verrà, ma sarà nascosto, via, guarda di nuovo qui, ma ci ho già guardato, ma saranno dietro, eh, mia mamma che cerca, ma ora vediamo un po' se si può trovare, eh, intanto notifica bomba, 100.000 decibel sul cellulare, con ovviamente cover a portafoglio, per non farci mancare mai niente, mi pa che sbraita, niente, non c'è stato versi, questo gatto non veniva fuori, l'abbiamo cercato per due ore, e il problema è che non si stiava niente, ne mi ago lì, niente, abbiamo provato con i giocattoli, col cibo, nulla, al che, io mi allungo, dentro il camino, e noto che il camino era aperto, che c'era una fessura, rialzata così, e poi questo camino, andava, con un balzo, andava in una specie di, eh, come si può dire, sembrava quasi un forno a legna, una sorta di, cappa, ecco, una cappa, si è, c'è il suo nome, con poi il comignolo che andava sul tetto, ovviamente io sono andato lì, super in iperventilazione, perché ho detto ok, se con due balzi è andato lassù, e ho paura veramente che sia andata sul tetto, poi c'è il terrore perché non vedi un cazzo, sei impotente perché non puoi vedere nulla, anche con specchi, robe, non arrivi fino in cima, è un casino, un casino, vi assicuro che era molto facile arrivarci ragazzi, perché c'è uno scalino subito dentro il camino, e poi c'era un altro scalino intermedio, che non so cos'era di preciso, e poi arrivavi lì, veramente ero terrorizzato, dopo tre ore, tre ore di ricerche, di spaventi, di paure, tutti i tentativi, decidiamo di chiamare, è tutto vero, i vigili del fuoco, perché avevamo il terrore che fosse sul tetto, allora, dirò questa cosa, mi farò, non so come dire, però, forse qualcuno mi odierà un po' di più oggi, però io da oggi, sono un po' più contento di pagare le tasse, un po' più contento, non totalmente, un po' di più, una tacchetta, perché arrivano, ragazzi, vi giuro, è tutto vero, arriva una squadra, di cinque pompieri, da Livorno, Allora ragazzi, io voglio, non lo so, lo dichiaro, voglio donare, qualcosa, tre, quattro mila euro, ai pompieri di Livorno, perché da oggi, nutrono, hanno tutto il mio rispetto, arrivano col furgone, quello serio, americano, mi dicono già al telefono, noi veniamo, però a un'emergenza dobbiamo telare, perché comunque dobbiamo dare priorità a robe più gravi rispetto a un gatto, cioè va benissimo, e io ero talmente tiltato, io avrei detto di sì, anche guardati, veniamo però purtroppo, ti sputiamo in culo e ti ingruppiamo, va bene, prego, signore pompiere, non c'è problema, quindi in quel momento, ero veramente a pezzi, sono stati incredibili, ma era impossibile non ridere, cioè era impossibile non ridere a ogni secondo, era una squadra eccezionale, che ogni pompiere ha uno stereotipo livornese, uno era quello che si impegnava, ma dava tutta l'idea di non volersi impegnare minimamente, faceva, cor swinga in bocca, bocca spalancata nella masticazione, mano in tasca, ma sarà qui, guarda, guarda, direttamente, ti metti in mangiare lì, ti metti in mangiare lì, aspetti la notte, domani, esce là sotto, è sceso, domani è sceso, guarda, guarda tranquillo, mettili, c'è il sorseco, non c'è, mettili il coso, vai, mettili l'umido e l'icarba, se gli metti l'umido e gli metti la sciota, poi fa anche più odore, no? Perché va su dalla cappa, lo senti, cioè, diretta, diretta a me, vai, vai, poi gli avevo detto che è il Giappone, vai in Giappone tranquillo, vai, vai tranquillo, questo era il primo, il secondo era il livornese, quello zen, quello che tenta di non essere livornese, con tutte le fibre del suo corpo, ma non ci riuscirà mai, perché lo senti che è il livornese, però c'ha questi capelli lunghi, ondulati, questo pizzetto, pacatissimo, magrolino, che fa, senti bimbo, secondo me, questo gatto, ora non te la prende a male, non te la prende a male, però secondo me questo gatto è qui, un po' essere salito lì, è impossibile bimbo, perché te, come fai, c'è anche odore brutto, non gli viene da salire lì, capito, non sente il senso di protezione, ragazzi, è tutto verissimo, poi c'era il capo squadra, Buzzo, occhiali un po' grossotti, pizzo sale e pepe, fa, allora, senti, noi ci si va, questo era quello più rozzo, quello più anziano, quello di esperienza, senti, noi ci si va sul tetto, ma se ci chiamano bisogna andare, se no ci arrestano, senti, va bene, fate quello che volete, Pia, ti si va sul tetto a vedere se ti è andata sul tetto, se ti valeva questo pensiero, va bene, almeno mi stai più tranquillo, va bene, io, però come fai a non abbracciarlo, cioè, una persona che prende, manda la squadra sul tetto, per un dubbio, che ci sia un gatto, per far sentire tranquillo il padrone di un gatto, io, io li amo, raga, li amo, cioè, li ho amati, per tutti, perché mi hanno visto bianco, si sono cacati sotto, meravigliosi, io tra l'altro non avevo mai visto i compieri all'opera, prima volta che mi capitava di chiamare, voglio fare una donazione, se la meritano tutta, veramente, io li amo, li amo, me lo posso permettere, dono, perché sono, se si può, dono, comunque, poi c'era, lo ammetto, il mio preferito, questo, questo, lui era proprio il Livornese, ecco, lui era il mix di tutti i presenti in un solo corpo, era l'essere perfetto, il Livornese perfetto, barba lunga, sala e pepe, pelato, occhi di ghiaccio, e sì, boi, ma quindi, allora, spiegami, allora, aspetta, allora, spiegami così, spiegami un attimo, allora, dimmi, ti hai chiuso tu, ma sei sicuro, ma sei sicuro che hai chiuso tutto, no, perché gatti, sono come donno, le, sono furetti, i suoi ermellini, un libecchimia, eh, ma sei sicuro, ti hai divestato, sì, ma questa valigia era chiusa aperta prima, no, perché se no, vai in Giappone, apri, e trovi il gatto che non trovavi, no, no, guardi, ho controllato, mi hai aperto tutti i cassetti, guarda, a volte ci sono i bui nel divano, eh, da sotto ci sono i bui, eh, si infilano nei bui i gatti, sono matti, lo sono schizofrenici, eh, io ce l'ho il gatto, eh, miatelo Dio per D, eh, miatelo Dio per D, io ce l'ho avuto, eh, no, ho capito, ma, allora, guarda, senti, facciamo un'osa, se te ti senti un vinto, che sia lì il gatto, io ti spacco il cammino, no, guardi, aspetti, aspetti, prima di spaccare il cammino, oh, ma che mi ci vuole, guarda, vado giù, c'è il furgone, mattello e scarpello, e ti spacco il cammino, poi domani devi chiamare un muratore, occhio perché Pasqua è Pasquetta, non ti ci viene nessuno, eh, io te lo spacco, ci lascio il buo, si dà un'occhiata con qualche specchio, ci sa la termocamera, e si vede se c'è il gatto, dè, guardi, io prima di arrivare a spaccare tutto, poi, no, ma poi guardi, non te lo fa, non te lo fa perché è periodoso per il gatto, poi finiscono carcinacci, no, a me mi dispiace, a me mi dispiace però lasciarti sia, a me mi dispiace, si fa, no, si va sul tetto, ma si va sul tetto, questi vi prendono lo scaleo, salgono sul sottotetto, e vanno sul tetto, e poi tornano tutti e quattro giù, il capo con la radiolina, allora, l'hai trovato? No, abbiamo guardato anche da sotto, ma c'è nulla, dè, questo, digli al bimbo che non si è trovato niente, oh, dè, oh, che bisogna fare, noi abbiamo guardato anche di sotto il gamino, ma è possibile che c'è la rete, poi è uscito fuori sul tetto, quello è un pensiero, si leva il bimbo, va bene, ci andano giù, e, e, e mi lasciano con questo vuoto, nel quale, tutti scuri in viso, di non avermi potuto aiutare, ma sono stati mezz'ora, poi sono andati, e noi eravamo disperati, disperati, io sono stato mezz'ora, in lacrime, ero proprio arrivato alle lacrime, perché ero disperato, continuavo a guardare, questa, questa fessura enorme, nera, polverosa, tutta piena di ragnatele, di camino, e sono stato lì, con l'orecchio teso, a sentire, anche un solo rumore, della mini, ma non si sentiva niente, anche perché lei, quando ha paura, si rattrappisce, mi dice, niente, e sono stato lì, mezz'ora, a un certo punto, mi macchia, era rimasta con me, fa, aspetta un attimo, scende giù, va, va a un supermarket, lì, accola i salvetti, compra una bustina, della Royal Canin, che sono le sue preferite, prende un piatto, ce la mette, e lo lascia, sopra il camino, a un certo punto, ragazzi, per miracolo, dal vano legna, del camino, sguscia fuori, la mini, io la vedo, e non ci potevo, credere, quindi io, 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 chiudo tutto il camino, chiudo, perché ho scoperto, poi c'era una leva, vecchissima, l'ho tirata, per chiudere tutto, aspetta, aspetta, poi arriviamo al, allora io dico, no, non è possibile, devo capire, che cazzo è successo, dove si è nascosta, mi infilo nel vano legna, fino in fondo, che comunque, avevo controllato, con torce, con, con lo scopettino, con tutto, e scopro, che c'erano, dentro al vano legna, due foratini, due mattoni, messi così, circa, e poi c'era, la, il soffittino, di questo vano legna, quindi, immaginatevi un buco così, scuro, lei era, entrata, e si era nascosta, in uno spazio morto, tra, una sorta di, di seduta, accanto al camino, e il vano legna, lei si era ficcata, in questo, non so, doppio fondo, non so come definirlo, comunque, spazio fantasma, che non serve a niente, perché era murato, lei però ha trovato, un buco nei furatini, ma ragazzi, veramente, di questa dimensione, e c'è entrata dentro, ho preso il telefono, ho chiamato i pompieri, e li ho ringraziati, li ho ringraziati, ho detto, l'ho trovata, perché loro, ci tenevano, fateci sapere, l'ho chiamato, ho detto, grazie, siete stati meravigliosi, continuate così, ragazzi, perché siete, avete, siete stati professionali, tutto in sicurezza, battute per stemperare l'attenzione, super umani, proprio, cioè, questa gente va anche, levare i pezzi di cadaveri, sulle ferrovie, raga, perché insomma, il babbo di Lorenzo, Aiello, faceva, o fa ancora il pompiere, mi ha raccontato robe, proprio a Livorno, mi ha raccontato robe incredibili, eppure un'empatia, una, una, anche una simpatia, nell'estate dietro, allucinante, quindi, quindi, veramente stupendi, e, e, io ho murato ogni buco adesso, dal terrore, e, e, poi scoppiato in un pianto liberatorio, con Agnese, ci siamo abbracciati, perché, per quattro ore, noi siamo stati così, perché, pensavamo veramente, che lei fosse rimasta incastrata, nella cappa del camino, perché vi assicuro che, bastavano, meno male, non se ne accorta, perché mancavano, due, cioè, due saltini dei suoi, ci arrivava tranquillamente, lassù in cima, e poi, chi cazzo, dalla paura, chi cazzo la riprendeva più, lassù, e poi, bisogna dire una cosa, aveva ragione, mi pa, e il pompiere, tra l'altro, la cosa che mi ha veramente stupito, è che, il pompiere con capelli lunghi, quello più pacato, che sembrava San Francesco, e mi diceva, bimbo, ma, mi dispiace tanto, guarda, guardava così il camino, e mi ha detto, guardandomi negli occhi, e io lo sento, secondo me è qua, ho detto, ma hai sentito un rumore, no, no, secondo me è qua, io non lo percepisco, in questa zona, e ha detto, ok, questo è, incoglionito, non mi aiuterà mai, l'aveva veramente, aveva, aveva capito, che era lì, e poi mi hanno raccontato, alcuni episodi, di gatti, che hanno recuperato, in cima agli alberi, veramente assurdo, ma poi arrivano, con il trasportino, sono meravigliosi, ragazzi, ho chiuso tutto, ho chiuso tutto, comunque, la ragione mi fa, ma verrà giù, sarà da qualche parte, Fabrizione, ah, tra l'altro, c'è stata una cosa, che mi ero scordato, lui mi fa, vabbè, vai, domani vai in ferie, guardi, non vado proprio in ferie, domani vado pure a lavorare, c'è anche questa rottura di cazzo, qui che, sto in pensiero sul lavoro, e lui fa, ma perché, che lavoro fai, eh, no, guarda, non è il momento adesso, di parlare di questo, ci vuole mezz'ora, no, mi devi dire che lavoro fai, mi devi dire che lavoro fai, diciamo che lavoro su internet, fai, un faramiele cripto, eh, no, no, guardi, stia tranquillo, ah, subito il pompiere, vai, veramente, i miei padri assoluti, cazzo, poi sono andati sul tetto, veramente fortissimo,